Anche Byrd crede fortemente e partecipa al piano di Roma Capitale per gli spostamenti del periodo natalizio dal 1 al 31 dicembre. Per questo motivo e per ridurre il traffico delle auto private, Byrd mette a disposizione per tutti i suoi utenti un codice sconto Natale con Byrd per avere uno sconto del 30% su tre corse fatte durante il periodo 1 al 31 dicembre e a tutti gli abbonati ATAC con abbonamento annuale valido è riconosciuto un codice sconto che consente di poter viaggiare gratuitamente per 80 corse nell'arco di questo mese, 15 minuti per ogni corsa. È una cosa che Byrd intende mettere a disposizione dell'amministrazione della città per migliorare la mobilità di questa città, quindi se ancora non ce l'avete scaricate l'app di Byrd e utilizzate il codice che vi apparirà non appena avrete creato un account.